Estate, tempo tradizionalmente, tempo di gelato. Siamo con Roberto al bar Piazza Federico II a Iese, proprio nella piazza centrale. Intanto le chiediamo quali sono i gusti più apprezzati dai clienti del suo bar? I gusti più apprezzati dai clienti in genere sono la crema, crema, cioccolato, nocciola, stracciatella, ma in questi giorni così, tanto caldo, va moltissimo il gelato e la frutta, specialmente fragola, limone, amarena e arancia. Siamo nella piazza centrale della città di Iese, quindi non possiamo non chiedergli se ci sono dei turisti e che tipo di turisti sono, da dove vengono? Allora, per il momento si trovano dei turisti, ma non tanto. L'anno scorso ce n'erano di più. I turisti che ci sono, i stranieri, fondamentalmente sono dei tedeschi e poi quelli che vengono in gruppo e poi così i gruppi familiari che sono dell'entroterra. E quali sono le proposte del bar Piazza Federico II per l'estate? Ci sono delle serate musicali? La proposta che noi facciamo durante l'estate, in questo momento per esempio stiamo facendo il karaoke e stiamo organizzando una serata di tango argentino con dei cantanti argentini di tango e ballerini internazionali di tango.